Sono cinque mesi che i dipendenti della società cooperativa Aliservice, che in Basilicata gestisce il servizio di alisoccorso, non percepiscono gli stipendi. Sulla questione il consigliere regionale del PD, D'Alessandro, ha presentato un'interrogazione, considerando l'avvenimento un fatto grave che necessita di opportuni approfondimenti. Un'ennesima crisi aziendale, evidenzia D'Alessandro, che colpisce lavoratori monoreddito a cui non sono stati riconosciuti indennità e straordinari, né tantomeno qualcuno si è preoccupato di riconoscergli almeno la tredicesima mensilità. L'anno appena iniziato, conclude il consigliere del PD, impone un cambio di passo da parte di tutti. Occorre mettere in pratica i buoni propositi che sono venuti da più parti, prevenendo l'insorgere di criticità come questa e sanzionando eventuali manchevolezze. Grazie a tutti.